Qualcuno di voi sa dov'è lui? Qualcuno di voi ha visto lui? Allora, parlate! Tutti zitti! Loro non sanno nulla! Le gente innocente! Non sanno nulla! Io ho dato a voi 15 minuti! Ma non sanno nulla! Le gente innocente! Per trovare qualcuno che dice noi... Non lo sanno, non lo sanno! Dove nascondiglio di fafala! Non lo sanno! E di suoi banditi! Prendete la mia, vi prego! Mixta! Avete ancora? Solo la mia... Uno minuto! Il 12 agosto ricorrerà il 66esimo anniversario della strage perpetrata dalle truppe naziste a Sant'Anna di Stazema, località toscana in provincia di Lucca e all'epoca appartenente alla neocostituita Repubblica Sociale Italiana. L'ecidio, sistematico e premeditato, portò alla morte di 560 persone innocenti accertate, di cui 130 erano bambini. Nel 1944, i tedeschi avevano già avviato l'occupazione dei territori italiani dopo l'ammestizio di Cassibile del 43, che aveva portato alla resa incondizionata dei fascisti e agli alleati, con la conseguente caduta del regime di Benito Mussolini e la proclamazione come primo ministro generale Carlo Badoglio. Mussolini venne arrestato e tenuto in una prigione situata sul Gran Sasso, in Abruzzo, prima che venisse liberato da un commando tedesco di paracadutisti capitato dal generale Kurt Student e costituisse un nuovo governo a Sarò. A caso dei bombardamenti delle truppe alleate, crebbe il numero degli sfollati, i quali trovavano rifugio a Sant'Anna o nelle borgate di Mitrofe. Nel frattempo, i tedeschi rastrellavano gli uomini per impiegare nelle opere di fortificazione sul Tirreno, sull'Appenino e sull'Adriatico, in modo da fermare l'avanzata dell'esercito anglo-americano. In questo contesto, i partigiani, l'esercito di liberazione italiano formatosi dopo la caduta del regime fascista, operavano azioni di sabotaggio e attentate ai danni della Wehrmacht, la quale reagiva con pesantissime rappesaglie ai danni dei civili. Tale pretesto spinse l'esercito nazista a prendere di mira Sant'Anna di Stazema, considerata zona bianca, poiché era una località adatta ad accoglieri sfollati, ed era appena stata abbandonata dai partigiani. All'alba del 12 agosto 1944, tre reparti delle SS salirono in paese, con un quarto che si occupò di chiudere la via di fuga in direzione di Val di Castello. La frazione venne completamente circondata già verso le ore 7, con gli uomini che fuggirono nei boschi per evitare la deportazione, e con donne, anziani e bambini, che restarono nelle loro case, sicuri di non incorrere nella rappesaglia. Purtroppo, le cose andarono diversamente. In mezza giornata vennero uccisi centinaia di civili, di cui solo 350 poterono essere identificati in seguito, e 65 di essi erano bambini minori di 10 anni, con la vittima più giovane, che aveva soltanto 20 giorni di vita. Nei documenti tedeschi si parlava di operazioni di buoncontrobande all'interno della zona di Sant'Anna, le quali avrebbero portato alla morte di 270 banditi, alla cattura di 68 persone e 208 uomini sospetti assegnati al lavoro coatto. L'ufficio informazione del comando tedesco, in un secondo momento, comunicò la cattura di 353 civili sospettati di condivenza con i partigiani, di cui 209 vennero trasferiti nel campo di raccolta di Lucca. I rastrellamenti dei nazisti furono efferati. I civili vennero rinchiusi nelle chiese, nelle stalle o nelle cucine, efferedati a colpi di mitra, rivoltella e con le bombe a mano. Vennero appiccati anche degli incendi, che causarono ingenti danni a cose persone. Oltre a Sant'Anna, in zona vennero coinvolti nella strage, in quello stesso pomeriggio, anche gli abitanti della località di Mulina, Val di Castello e Capezzano Monte. I processi cominciarono soltanto nel 2004, con le indagini avviate nel 1994 dei procuratori militari Antonino Interisano e Marco De Paulis, i quali riuscirono a ritrovare la documentazione che testimoniava il massacro e a rintracciare i responsabili dell'eccidio. Vennero condannati all'ergastro nel 2005 ben 10 tra ex ufficiali e sotto ufficiali tedeschi. Nel 2000 venne istituito il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazema, dove svette il monumento ossario, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria storica della strage nazista e delle persone che hanno perso tragicamente la vita in quel triste giorno di agosto.